Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Falename per Passione. Oggi video veloce, come creare attacca panni un po' particolare. Cominciamo! Ho cominciato impostando queste corna e poi le ho misurate. Uno era sul circa 32 mm, secondo 30 mm. E ora ho trovato due punte, una da 32 mm e una da 30 mm. Fuori ho fatto con inclinazione di 30 gradi. Fuori ho fatto con inclinazione di 30 mm. Dopo aver fatto i fori per le corna, con la fresatrice preparo posto per i ganci. Musica 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 Grazie a tutti. Dopo aver levigato tutto, con il piccolo laser faccio il logo del mio collega, dato che l'attaccapagni è per lui. Con lo scotch carta chiudo fuori dietro. Per fissarli uso resina poliuretanica. Musica Come finitura due mani di olio cera dura. Musica Ok ragazzi, l'attaccapagni è finito. Come avete visto, la resina poliuretanica si può usare anche per incolare dei pezzi particolari. Ma per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, come solito, sapete cosa fare. E noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!